Cosa non dobbiamo accettare in una relazione di coppia? Forse sarebbe meglio iniziare a chiederci cosa dobbiamo pretendere in una relazione di coppia. Stare bene, stare bene quando stiamo insieme, stare bene quando pensiamo a quella persona, stare bene quando ci arriva un messaggio da quella persona, sapere di poter essere ascoltati, sentire di poter chiedere quello che vogliamo, sentire di poter dire di no quando non vogliamo fare qualcosa e non sentirci costretti a doverla fare per forza, altrimenti succede qualcosa. Sapere di poter sempre contare su quella persona, ma anche di poter contare su noi stessi e noi stessi. Questo vale per ragazzi e ragazzi, quindi poter essere autonomi, non aver bisogno di qualcuno per esistere, ma pensare che come persona da sola funziono bene, ma mi piace tanto stare con quella persona lì e quindi in due funzioniamo meglio.